buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a questa lettura per il segno della vergine parleremo sia di coppie che di single e se però non dovesse risuonare proprio con tutti voi significa che la lettura che vi rispecchia sarà quella del vostro segno ascendente o del vostro segno di luna se invece volete una lettura privata perché comunque preferite una cosa one to one per conoscere esattamente la vostra situazione personale potete inviare una email a voci dagliangeli chiocciolagmail.com oppure andare sul sito internet e prenotare direttamente dal sito internet invece per quelli che vogliono diventare i miei studenti il mio consiglio è inviate un whatsapp al 338 8191 267 e risponderemo senza impegno tutte le vostre domande o comunque vi metterò in contatto con elisa che che vi spiegherà tutto vediamo adesso l'ultima cartina non vuole uscire quindi come al solito la prendiamo con la forza e cominciamo e vediamo che cosa accade questo mese per il segno della vergine la morte che bello detta così sembra come una di quelle robe che si vedono nei film quando il tizio va dal cartomante che cosa mi accadrà domani la morte per fortuna la morte è una bella carta o meglio a me piace tantissimo infatti nel metodo maya nel metodo maya ho dato alla morte il suo significato più tradizionale e originale di trasformazione e trasmutazione alchemica quindi nulla di brutto nulla di negativo abbiamo mantenuto il significato della carta più classico proprio perché la morte per ciascuno di noi è questo quando noi pensiamo alla morte come occidentali come cattolici è naturale pensare alla fine di un qualcosa perché noi associamo la morte alla fine della vita quindi cosa mi accadrà domani oppure come andrà domani la nostra relazione la morte sembra una tragedia invece no perché da parte il fatto che anche per la religione per la primissima religione nascente cattolica o come la vogliamo chiamare cristiana ma il cristianesimo è nato con gesù quindi comunque gesù è già faceva già parte di quella religione dobbiamo capire questo quello che voglio dire è che in realtà per tutte le religioni del mondo fino a una certa epoca il concetto di reincarnazione era molto chiaro molto evidente dopodiché è stato tolto cancellato perché comunque dalla chiesa cattolica allora nascente è stato scelto di togliere questo concetto di reincarnazione dalle varie sacre scritture che sono poi modificate nei numerosi concili che sono stati fatti nei primi secoli dopo l'anno zero considerato l'anno della nascita di cristo e ma la morte per tutti rappresenta semplicemente un passaggio da questa vita alla vita successiva quindi da una vita un'altra vita e dopo quell'altra vita c'è un'altra morte per tornare su questa vita quindi la morte non è non rappresenta una fine ma una transizione una trasformazione un una trasformazione talmente totale di qualcosa che appunto che appunto può essere paragonata al fatto di lasciare il corpo fisico qui per andare nell'aldilà sempre una trasformazione è ma bella tosta è quindi che trasformazione wow ed ecco che appunto la morte questo mese rappresenta la trasformazione per eccellenza di qualunque tipo di situazione sentimentale o amorosa la vergine stia attraversando vedremo come vedremo in che modo intanto voglio girare queste due cartine che mi danno sempre qualche indizio allora da intanto cominciamo a vedere le due colonne e partiamo per chi è single scusate partiamo per chi è in coppia chi si trova quindi chi si trova su questa colonna si sente come un sette di bastoni e ciò che prova è l'imperatrice desidera un dieci di bastoni si comporta come un cavallo di spade ciò che non dice il nove di coppe dall'altro lato abbiamo una persona che si sente come la temperanza prova un cavaliere di denari desidera un sette di spade si comporta come un due di denari e ciò che nasconde l'asso di coppe carte molto particolari devo dire per chi è in coppia forse sono più semplici da interpretare per chi è single perché questa grande trasformazione che ci coinvolge in qualche modo in qualche modo è accompagnata da energie di resistenza energie di blocco riflettendo non è poi così strano perché ogni grande trasformazione porta con sé delle resistenze perché trasformarsi e cambiare significa uscire dalla propria zona di comfort significa uscire da quello che per noi è già conosciuto comodo confortevole familiare invece significa andare verso un terreno totalmente nuovo e inesplorato quindi fa paura ed ecco perché questa paura potrebbe creare proprio queste energie così pesanti perché questa persona che si ritrova da questo lato si sente come qualcuno che deve proteggersi difendersi e mettere delle barriere tirare su un po di barriere nonostante il sentimento che sia l'imperatrice per il proprio partner quindi nonostante l'amore l'affetto e la voglia di prendersi cura dell'altra persona però ecco che nonostante questo c'è questo estremo bisogno di tirar su barriere cosa desidera questa persona anche qui un dieci di bastoni questa persona desidera continuare andare avanti anche se questo significa sentirsi appesantiti anche se questo significa comunque portarsi dietro quelle solite cose che non vanno e che non sono ancora state risolte ma allora quello che mi domando io e che vorrei leggere nei vostri commenti è se vi sentite così amorevoli nei confronti del vostro partner o magari questo è il vostro partner che si sente così amorevole nei vostri confronti ma perché tirar su barriere perché voler continuare una cosa in modo pesante piuttosto che pensare di alleggerirla forse perché non ci sono alternative portarla avanti in modo pesante è l'unico modo che si conosce in questo momento però ecco quello che vorrei capire come mai tanto amore con le barriere io credo che potreste essere voi per per la maggior parte siete voi da questo lato solo qualcuno di voi sta da questo lato tra l'altro questa è una persona che sembra mettere i puntini sulle i sembra anche un po arrabbiata magari forse questo è un mese di tensione è un mese particolarmente intenso in cui le emozioni tendono ad essere buttate fuori con un estrema mi verrebbe da dire con un estrema facilità ma forse non è proprio corretto corretto lo spiego meglio questa persona mi dà la sensazione di avere sopportato abbastanza in passato e siccome si è proprio stancata e ha capito che sopportare non porta a nulla adesso non è più propensa a farlo quindi anche senza la necessità di dover decidere cosa fare o cosa dire viene molto spontaneo rispondere reagire difendersi proteggersi prima era una cosa forzata prima era una cosa che andava fatta in modo logico studiato un po come quando io faccio fare gli esercizi di programmazione neurolinguistica e dopo aver fatto un esercizio di riprogrammazione di quella persona allora abbiamo installato un nuovo programmino nella tua testa ma adesso lo devi usare perché se non lo usi si atrofizza si cancella non serve quindi ecco una volta installato un programmino bisogna all'inizio fare un piccolo sforzo per usarlo fino a quando non diventa una cosa normale abituale autonoma ed ecco che lì il cambiamento del cliente diventa definitivo o comunque la trasformazione diventa definitiva all'inizio ogni trasformazione deve essere forzata questa persona mi sembra che non è più forzata anzi questa persona mi sembra che dentro nel proprio nel profondo del proprio cuore sta bene perché è in pace con se stessa fuori ama il proprio partner ma se gli girano le balle sette di bastoni cavallo di spade tira su quello che deve tirare su risponde risponde anche male se deve rispondere male si protegge se deve farlo si protegge se si sente presa in giro manipolata o comunque se qualcosa non va questa è proprio una persona che ha imparato a farlo spontaneamente mentre prima magari si tratteneva prima era più accondiscendente adesso no non lo è più dall'altro lato abbiamo una persona che deve per forza essere paziente o comunque deve per forza imparare cos'è la pazienza cos'è la la tolleranza la comunicazione questa persona che sta da questo lato in questo momento ha bisogno di prendere le cose con calma e con riflessione questa è una persona che comunque ha o cavolo c'è un piccolo problemino c'è un piccolo problemino per tanti di voi tanti purtroppo vorrei dire pochi di voi ma dico tanti di voi qui c'è una persona che non nonostante sia nonostante provi comunque un forte legame nei confronti del proprio partner e nonostante provi anche un desiderio di andare avanti di costruire di fare insieme in questo momento è un po in crisi perché si è preso una una sbandata per qualcun altro io so che non è così per tutti ma per molti sì questo mese purtroppo per molti c'è questa situazione se però non vi risuona non risuona con voi il consiglio che vi do è sempre quello di andare a guardare le vostre letture del segno ascendente o del vostro segno di luna perché capita molto spesso che l'anima si ritrovi a gestire a vivere attraversare energie più legate all'ascendente o alla luna che non al segno di sole a volte anche giove infatti molti dei miei a volte leggo sui vostri commenti che leggete un segno perché il vostro perché il vostro giove e va benissimo va benissimo quindi io adesso mi concentro un attimino su quelli che sono rischiano di essere cornuti o sono cornuti poi passiamo a quelli che non lo sono mi perdonatemi io purtroppo sono vergine pure io quindi non pensate che vi stia prendendo in con cattiveria perché guardate che parlare di corna e comunque questa è una stesa che questa è una stesa che in realtà non parla di corna ve lo dico non parla di corna ma parla del desiderio di farle e quindi e quindi per quelli di voi che si sentono risuonare con questa cosa vi dico in realtà ragazzi potete anche stare tranquilli perché non è necessariamente una stesa di cornuti no è la stesa che sta rappresentando una situazione in cui uno di voi o voi o il vostro partner ma comunque la persona che sta da questo lato ha un altro interesse e questo interesse purtroppo sembra abbastanza forte cioè distrattivo riesce a distrarvi dal partner riesce a portare la vostra attenzione da tutt'altra parte ecco perché appunto questa persona si comporta come un due di denari cioè un po di qua un po di là non sa cosa vuole però nel frattempo tiene in piedi tutto e desidera il sette di spade e il sette di spade in questo caso specifico mi rivolgo ai miei studenti di secondo livello tarologia avanzata che lavorano sugli abbinamenti e quindi hanno più praticità questo sette di spade che nella preso singolarmente come carta rappresenta evitare certe cose scappare non affrontare le persone o le situazioni in questo caso rappresenta può rappresentare il tradimento o il desiderio di tradimento il desiderio di fare qualcosa di nascosto questa cosa di nascosto è stata già fatta dipende dipende da qualcuno sarà stata già fatta da qualcuno ma dalla maggior parte no dalla maggior parte è solo un desiderio è solo un è un interesse è un interesse che viene coltivato nel tempo libero o comunque un interesse che è nato in momenti di tempo libero e però ecco adesso come promesso prima parliamo di quelli che non hanno questa sorta di problema ma comunque vivono una coppia nella quale le problematiche le dinamiche sono semplicemente legate a proprio i due partner e allora vi dico chi non è cornuto o chi non ha situazioni di desiderio di altra roba fuori a questa persona in questo caso il suo semplice desiderio è quello di il desiderio è quello di prendere aria proprio prendere aria avere più tempo per sé e avere più tempo per i propri hobby per i propri amici o semplicemente per sganciarsi perché ogni tanto è normale ci sta ogni tanto le relazioni appesantiscono quindi è normale che ci sta a sganciarsi e che ci sta a prendere un po di tempo per sé quindi per chi è in coppia ricapitolando qualcuno rischia le corna ma qualcun altro no se siete voi quelli che avete un altro interesse io piuttosto vi dico ragazzi chiaritevi le idee perché comunque dall'altra parte ci sono anche delle resistenze che vanno sciolte vanno lavorate se invece voi siete quelli che hanno le resistenze quelli che stanno mettendo su i loro paletti e allora metteteli bene i vostri paletti però imparate anche a farlo con il sorriso perché qui c'è un'energia troppo pesante quindi se siete stress stressati nervosi e tesi il mio consiglio è se ve lo do perché so che è possibile farlo non sono una di quelli che va dal depresso e gli dice ma va ma la tua vita è bellissima ma di che cavolo ti lamenti hai tutto quello che ti serve ecco no non si fa così quando uno è depresso ragazzi anche se è il figlio della regina Elisabetta e e domina il mondo non si ci può dire da tu hai tutto dalla vita dovresti essere felice perché significa non avere assolutamente compreso la sofferenza dell'altro e significa non avere idea di come aiutare l'altra persona quindi io non è che sto qua a dirvi ma va passatevela bene divertitevi cioè no se siete se siete appesantiti e sentite queste energie è giusto che voi le riconosciate e gli diate un e gli diate un valore un peso ma consiglio però è e non lo do io lo danno le carte in particolare lo sta dando questa ve la proprio ve la leggo così ve la faccio vedere così capite se ti vedi poco attraente sorridi ognuno di voi saprà che cosa significa quello che vi dico io però è che dovete cercare il lato bello nella vostra vita quando nella relazione qualcosa non va o non vi soddisfa cercate il lato bello della vostra vita cercate di costruire la bellezza per voi stessi non focalizzate tutto il vostro tempo tutta la vostra energia e le vostre attenzioni sulla relazione la vita non è fatta di relazioni la vita è fatta di voi nelle relazioni e voi siete al centro delle vostre relazioni quindi la relazione più importante è quella con se stessi se voi state male siete depressi non potete attrarre un uomo o una donna che vi faccia star bene perché il vostro stato di depressione a livello energetico attrarrà persone che metteranno ancora più in luce la vostra depressione che quindi probabilmente vi faranno stare anche male quindi cosa significa focalizzarvi su voi stessi in questo caso significa se voi riuscite a creare qualcosa di bello per voi nella vostra vita che sia un hobby che sia una passione che sia una qualunque cosa che vi piace fare concentratevi su quello che vi fa venire il sorriso perché diventate più attraenti e perché la vita è meglio e perché se questo sta pensando di farvi le corna gli passa la voglia vi vede più belli però ripeto le corna non sono per tutti e poi comunque potete sempre andare a guardare ascendente e luna che secondo me fa sempre comodo però passiamo adesso ah comunque prima di passare i single voglio proprio chiedere espressamente a chi è in coppia della vergine questa forte trasformazione in che cosa consiste perché sarà davvero grossa grandi cambiamenti nel frattempo nel frattempo che cosa accade nel frattempo accade che per i single qualcosa che allora ovviamente anche per i single c'è la trasformazione partiamo da questo presupposto la morte qualcosa di grosso quello che dobbiamo capire e che voglio vedere insieme a voi è in che direzione state andando quindi sempre guardando le condizioni energetiche in cui si trovano queste due persone io credo che la grande trasformazione che molte vergini single avranno sarà la consapevolezza che stanno bene da soli la consapevolezza che hanno davvero tutto ciò di cui hanno bisogno e non solo la grande trasformazione sarà che comprendere questo principio sacrosanto che possiamo anche star bene da soli ci porta a amare gli altri senza avere delle aspettative io non se io ti amo ma tu ti devi comportare bene con me quello sì amore va bene amore i greci erano bravi in questo distinguevano eros agape i greci davano diversi nomi ai vari tipi di amore in questo i più scimoniti sono gli inglesi che usano solo la parola love per tutto e creano una grande confusione e favoriscono tutti i narcisisti patologici manipolatori con questa con questa roba della parolina vabbè battuta a parte battuta scema a parte e questa persona sembra che abbia capito che si può anche amare qualcuno senza bisogno per forza di corrigli dietro e di leccargli i piedi cioè questa persona ha capito che può amare qualcuno ma allo stesso tempo può anche essere incazzata quando ne ha motivo quando ha ragione e può anche mandarla al diavolo quando ha ragione e quando ne ha motivo e va bene così perché se questo è quello che la vita mi sta mettendo di fronte in questo momento se questa è quello se questa è la sfida che mi trovo in questo momento e vuol dire che deve essere questa e allora la accettiamo ok va bene così però non mi faccio più fregare nel senso prima ero accondiscendente ero sempre carina buona rispondevo sì signore adesso ma perché dovrei rispondere sì signore io posso voler bene a qualcuno amare qualcuno dimostrare il mio affetto per qualcuno ma dire no quando questa persona non si comporta nel modo giusto ed ecco che qui abbiamo una persona innamorata o comunque una persona che prova un forte legame per qualcuno ma preferisce starsene da sé preferisce starsene da sé e se questa persona dovesse avvicinarsi questa risponderebbe è come se risponderebbe con un bel cavallo di spade zza 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 sì che risponderebbe ma per tagliare la lingua all'altro o la lingua o qualcos'altro e questa persona è disposta a sentirsi appesantita dalle emozioni pur di non scendere a compromessi brava 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 brave vergini mi state rendendo orgogliosa e dall'altro lato abbiamo una persona che invece decisamente decisamente non sa cosa fare e decisamente ha bisogno di tempo per capire che cosa fare guardate le lame che parlano di tempo studenti studenti la temperanza parla di tempo il due di denari è uno che prende tempo il sette di spade è uno che evita discussioni prendendo tempo il cavaliere di denari è uno che va avanti ma molto lentamente quindi con calma con tutto il tempo del mondo e questa è una carta dove c'è scritto tempo libero tempo libero quindi questa è sicuramente una persona comunque che problemi di tempo non ne ha ma che anzi prende tempo e perché prende tempo? ma forse per capire come sciogliere le barriere di questa perché qui c'è un asso di coppe l'unica carta sensata da questo lato è l'asso di coppe l'amore l'amore cosa prova per me? mi cercherà? impara a leggere la sua mente con il metodo Maya iscriviti ai nostri corsi qui però vi devo dare due diverse opzioni e due diverse interpretazioni la prima interpretazione è che questa persona ha combinata proprio grossa e sta cercando una soluzione per tornare indietro da questa ed ecco a cosa serve il tempo a cosa serve la pazienza con la temperanza a cosa serve allontanarsi perlomeno momentaneamente evitare discussioni evitare conversazioni perché? ma perché queste discussioni e conversazioni andrebbero sicuramente contro questa persona che avrà il carbone bagnato che avrà fatto delle stupidaggini e quindi ecco che non si fa ecco questa persona preferisce evitare subito un confronto ma preferisce piuttosto prima sentirsi pronta per andare verso l'altro con la favoletta giusta in bocca con la storiella giusta però c'è anche un'altra possibilità e l'altra possibilità è che questa persona vuole un gran bene all'altra ma prova un sentimento per qualcun altro ed ecco perché qui la coppia non nasce ecco perché qui la coppia non può svilupparsi quindi nella seconda opzione che vi do questa persona prova un asso di coppe per qualcun altro desidera di nascosto avere una relazione con qualcun altro nel frattempo non sa come dirlo a questa o comunque questa può anche averlo capito perché non è scema e prende tempo e prende tempo quindi una situazione un po' poco chiara per la Vergine questo mese devo dire ma speravo di meglio però va bene vedremo vedremo e soprattutto voglio vedere dai vostri commenti realmente che cosa sta accadendo e come sapete ai miei studenti fa molto comodo leggere i vostri commenti perché usiamo noi loro queste stese per esercitarsi e adesso passiamo all'incrocio fra il segno della Vergine e i nostri 12 segni dell'Uzodiaco quindi mescoliamo le nostre cartine e io intanto ragazzi vi invito a inviare un messaggio whatsapp al 338 81 91 267 per chiedere informazioni sui videocorsi sulla possibilità di rateizzare o sulla possibilità di avere uno sconto nel caso in cui vi iscriviate a più di un corso quindi vediamo un po' vediamo un po' prendiamo le nostre cartine aspettando il via eccolo qua ok quindi per chi di voi sta flirtando o comunque interagendo con una riete sappiate che la riete vuole che siate voi ad agire a prendere l'iniziativa in questo caso invece il toro ha bisogno di tempo per capire per decidere con il gemelli sappiate che purtroppo le promesse non verranno mantenute bisogna vedere da chi dei due cioè se le promesse le avevate fatte voi o le aveva fatte il gemelli cancro il cancro ha un'ossessione per voi il cancro si è proprio preso una bella cotta il leone invece sta facendo troppi giochini mentali non se la sta giocando bene vergine con vergine state attenti perché uno dei due potrebbe volente o nolente usare l'altro giocare con l'altro quindi non è una cosa proprio serissima da parte di uno dei due bilancia la bilancia si sente abbandonata invece sullo scorpione avete bisogno di saperne di più prendete informazioni il sagittario vuole lottare per questo e il capricorno sta chiedendo ad altre informazioni su di voi l'acquario l'acquario con l'acquario potete lasciarvi andare potete seguire il flusso degli eventi perché tanto dove vi devono portare vi porteranno e il pesci con il pesci invece sembra che uno dei due stia per allontanarsi quindi qualcosa non va ma adesso andiamo a vedere la nostra cartina angelica la cartina angelica ci consiglia di farci aiutare dagli amici di passare del tempo con gli amici chiedere consiglio supporto sembra che le amicizie saranno molto importanti e molto utili questo mese per noi della vergine ci saranno accanto sia per consigliarci ma anche semplicemente per come sostegno come appoggio come presenza molto bello bene ragazzi io come sempre spero di esservi stata utile e vi invito ovviamente se volete diventare miei studenti a inviare un whatsapp e se invece volete una sessione privata a scrivere una email e per il resto ci vediamo alla prossima